Siamo qui oggi con Francesco Manfio del gruppo Alcuni. Quali sono le sfide nell'avere una produzione interamente italiana? Ma allora, non posso che ringraziarti di questa domanda, ma lo tengo io per tua comodità. Io credo che si debba, quindi la sfida si debba assolutamente affrontare e possibilmente vincere. Io credo che non si possa avere in Italia solo la parte creativa, o qualche volta neanche quella, e poi delegare la realizzazione di un cartone animato all'estero. Io credo che il processo creativo, quando è possibile, debba essere fatto in Italia. Abbiamo dimostrato che si può, l'abbiamo fatto con minicuccioli, ed è una serie lunghissima, perché sono più di 200 episodi, quindi 200 episodi fatti in Italia è sicuramente una cosa importante. Lo stiamo facendo con Vladi e Mirò e lo faremo anche, e lo dico qua in anteprima assoluto per la vostra radio, con un nuovissimo progetto che si chiama Gateway 66. Magari puoi chiedermi cosa si tratta e io ti rispondo. Secondo te quali sono gli elementi per essere competitivi invece a livello internazionale? Guarda, lo dicevo ieri e non so se si è stata apprezzata, è un po' una provocazione. Qualcuno ha detto, dobbiamo pensare a un progetto che vada bene per tutto il mondo e così sarà. No, 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 io penso che dobbiamo fare un progetto che parta dalla nostra storia, dalla nostra cultura, che è molto molto importante. Il rispetto degli altri nasce anche dal conoscere te stesso, conoscere la tua storia. Per cui, perché non fare noi come italiani un cartone animato su Leonardo da Vinci? Beh, insomma, sai, i francesi credono che Leonardo da Vinci sia francese, in realtà, devo dire la verità, Leonardo da Vinci è nato a Vincia. E quindi fare una storia su Leonardo da Vinci è una sfida che assolutamente possiamo fare. Qual è l'aspetto? Rendere questa storia internazionale, non raccontare una cosa di bottega, anche se il termine bottega è divertente, perché come sapete Leonardo è a bottega dal verrocchio, ma una cosa che piace in tutto il mondo e la cosa incredibile è che sta avendo grandissimo successo in Italia, ma sta avendo grandissimo successo in tutto il mondo. Quindi, nostre storie per un mondo, per un, come si diceva una volta, villaggio globale. Ecco, proprio Leo da Vinci, ma anche Mini Cuccioli sono due dei grandissimi successi. Da dove parte il processo creativo per realizzare un prodotto di questo tipo? Beh, allora, in realtà, sotto un certo punto di vista, Mini Cuccioli è ancora più territoriale di Leonardo da Vinci, perché pochi sanno che, in realtà, i Mini Cuccioli, le loro prime avventure, le vivono nel parco degli alberi parlanti, che è il nostro parco, quindi esattamente a 500 metri dal nostro studio. No, no, ma il processo è molto importante, c'è un'equip di autori che lavora benissimo con delle straordinarie idee, è coordinata da Sergio, che è anche mio fratello, ma la cosa importante, credo, e voi che studiate comunicazione, credo sia ancora più importante, è il fatto che noi abbiamo un team di docenti universitari che lavorano con noi, ma non dicendoci dovete fare questo, questo, questo e l'altro è sbagliato. No, no, capendo quali sono i problemi e scrivendo con noi, sia l'Università di Genova, sia l'Università di Firenze, lavorano con noi e questa è un'esperienza, è una cosa veramente molto, molto, molto piaceva e molto interessante, credo, quindi, grande team di autori coordinato da grandi esperti che possano lavorare e far crescere il progetto nazionale che poi abbia successo nel mondo. Ci anticipavi prima che ci sono, diciamo, c'è un nuovo progetto in cantiere, ci puoi anticipare qualcosa? Io lo sapevo che non ti sareste dimenticata, ma allora, in quest'ottica di vedere quello che c'è di bello, di interessante in Italia, abbiamo, ovviamente, forse conoscete, c'è questo bellissimo museo che è il Muse a Trento, e allora però non potevamo fare una storia, uno entra al museo e racconta il museo, no, è una cosa molto innovativa, c'è una scienziata che si perde in un universo parallelo, quindi anche dal punto di vista molto moderno, e viene cercata da dei ragazzi sedicenni, che entrano nel museo pensando di vivere un'avventura normalissima, in realtà si proiettano in questo mondo parallelo, diventano cartoni animati e vivono delle avventure 60 milioni di anni fa, 100 milioni di anni fa, oggi, domani, così. E quindi è mixare la tecnologia con l'idea di raccontare, in questo caso, la storia e la scienza ai ragazzi. Un'ultima domanda, secondo te come vengono percepiti dai più piccoli valori come l'integrità, l'ecologia, l'inclusione e la diversità? Devi fare cartoni animati che parlano di questo, perché quello che penso che a voi stia particolarmente a cuore, ma sta a cuore anche noi, è che chi fa comunicazione, chi fa cartoni animati, cinema, eccetera, sta facendo un'opera educativa, quindi non è che sta facendo una cosa neutra, e quindi se tu fai vedere a dei ragazzini, a dei bambini, nel nostro caso per minicuccioli, o dei ragazzi o anche dei preadolescenti, e parli di valori, non è quello che dici dovete essere tolleranti, ma li fai davvero, i minicuccioli sono un gruppo coeso, i minicuccioli aiutano quelli che sono in difficoltà, poi magari all'inizio non lo fanno, ma poi capiscono che questa è la strada da perseguire, quindi se parli di tolleranza, di rispetto, di amicizia, questi sono valori che poi forse entreranno nel tuo modo di ragionare quando sarai bambino o più grande e così via. Ringraziamo allora il nostro ospite, Francesco Manfio del gruppo Alcuni, Marta Miotto per Cube Radio.